Io costruirei un nido per l'educazione. Lo costruirei per prendermi cura dei bambini, soprattutto dei bambini della mia scuola di robotica e per dargli tutti gli strumenti che gli servono nel futuro che vivranno per vivere il futuro da protagonisti. Per esserlo devono essere formati su questo futuro, cosa che molto spesso manca nell'educazione, nelle scuole che normalmente frequentano i bambini perché non gli forniscono gli strumenti adatti. Non solo strumenti tecnici come saper programmare o saper programmare un robot, ma anche saper lavorare in gruppo, saper essere creativi e sapersi porre in tanti modi diversi. Quello che voglio consigliare ai ragazzi della mia età è quello di non porsi limiti, di credere sempre che niente è impossibile e con tanta determinazione, coraggio e voglia di fare si può arrivare veramente ovunque e che devono sempre ricordarsi che solo sul dizionario il successo viene prima di sudore.